Il 2010 è stato l'anno della svolta, sono state costruite le basi per garantire un equilibrato sviluppo economico del paese. Lo ha dichiarato il sindaco di Tarquinia, Mauro Mazzola, che questa mattina ha aperto la conferenza stampa d'inizio anno. Turismo, istruzione, servizi primari, lavori pubblici, ricoltura, sanità, cultura e servizi sociali sono stati i principali temi affrontati nel corso dell'incontro con i giornalisti. Per il turismo, la pubblica istruzione, i servizi primari è stato l'assessore Sandro Celli a fare il quadro della situazione, la programmazione del settore turistico ha portato a creare il portale del turismo, la guida di Tarquinia e l'apertura del nuovo ufficio IAT e dello sportello informativo al porto di Civitavecchia. Si è passati poi all'argomento della raccolta differenziata dei rifiuti che a breve sarà attivo in tutta la cittadina tirrenica. Nel comparto agricolo il vice sindaco Giovanni Olivo Serafini ha posto l'accento sull'impegno per la riapertura del pomo d'edificio fondamentale per il rilancio economico dell'agricoltura tarquiniese. Il programma dell'amministrazione comunale del 2011 sarà ricco di nuove infrastrutture al servizio dei cittadini, ha confermato il sindaco di Tarquinia. Abbiamo fatto vedere a tanti cittadini che tutto quello che avevamo detto lo abbiamo realizzato e si può fare ancora di più. Bisogna avere ancora un po' di pazienza e verranno a capo a finire tutte quelle opere che abbiamo già iniziato, tutti i progetti che abbiamo messo in campo e tutto ciò che porterà cultura, turismo soprattutto a Tarquinia. Per il 2011 continueremo soprattutto con la raccolta differenziata che abbiamo già iniziato nel 2010 e abbiamo altri tre progetti grandi, la piscina che inizieranno i lavori entro l'anno, il teatro che finirà entro il 2011 e un grande parcheggio. Il parcheggio è uno dei problemi più grossi che ha la città di Tarquinia, compresa la viabilità eppure lì ci stiamo lavorando piano piano a far capire la cultura, l'educazione, quella di viaggiare con le macchine, di parcheggiare e se usufruire dei mezzi pubblici gratuiti che ci sono a Tarquinia.